Ringrazio e saluto l'onorevole Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle. Bentornato su Sky TG24, Gubitosa. E allora, insomma, in realtà era già stato ospite da noi qualche giorno fa, ma qualche giorno fa, appunto, quando parlavamo del caso IMSS, mancavano ancora i nomi, ci sono ancora domande aperte che restano, insomma, con tutti quegli aspetti poco chiari, anche sulla modalità con cui è uscita questa notizia. Comunque, di fatto, la notizia oggi è che c'è il nome del vostro esponente, del vostro deputato 5 Stelle. Qual è la reazione di fronte a questo nome, Rizzone? Guardi, la reazione, ovviamente, da parte mia di sconforto, non me l'aspettavo. Ovviamente queste cose fanno... Perché lo conosce bene, Gubitosa, Rizzone? Assolutamente, è un collega, quindi sicuramente, diciamo, questa cosa ferisce. Però, io voglio dire questo, questo tipo di dinamiche fanno continuare a perdere fiducia nella politica da parte degli italiani, quindi noi dobbiamo essere inflessibili. Il nostro capo politico, Vito Crimi, ha già segnalato la cosa al collegio dei propri viti, ha chiesto che ci deve essere una sanzione abbastanza dura. Quindi io ritengo che alla fine sono certo che ci sarà un'espulsione. E ripeto che questo è un segnale importante, perché gli italiani non devono continuare a perdere fiducia nella politica. Dopodiché ritengo anche che i tempi di reazione con cui un movimento si muove, diciamo, per prendere provvedimenti verso questo tipo di dinamiche, che è comunque un dato importante. E la presenza stessa del Movimento 5 Stelle, che in questi giorni comunque si è agitata subito dopo che sono usciti questi fatti, ha fatto sì, a mio avviso, che anche altri partiti ci hanno seguito da subito. Quindi, ecco, il Movimento 5 Stelle, già il fatto solo, che è presente nella macchina, diciamo, dello Stato, fa sì che tutti gli altri partiti facciano questa corsa a migliorarsi sempre di più. Quindi l'unico dato positivo è che io ho visto, questa volta, i tempi di reazione della politica abbastanza velocemente. Io sono certo che il collegio dei probiviri darà un parere, diciamo, abbastanza severo sul collega e mi auguro che questo accada in tutti gli altri. Senta, ma più o meno quali sono i tempi, insomma, del giudizio da parte dei probiviri? Guardi, io questo non glielo so dire, assolutamente. Ok, non è prevedibile. So che su 320 parlamentari del Movimento 5 Stelle uno ha fatto questo errore. Non conosco i motivi per cui abbia fatto questa scelta. il collega Rizzone sicuramente avrà modo di parlare, sicuramente sarà ascoltato, diciamo, dal Movimento 5 Stelle, però io ritengo che la decisione finale sia abbastanza scontata, perché ci sono errori, diciamo, gravi, errori meno gravi. Io ritengo che questo sia un errore grave, perché quei 600 euro erano per le partite IVA e per i cittadini in difficoltà. è un parlamentare che guadagna oltre 13.000 euro al mese. Non è proprio concepibile che faccia una richiesta del genere. Però, ripeto, i tempi di reazione sono importanti e sono certo che il Movimento 5 Stelle sia stato abbastanza veloce nel gestire questa problematica. Senta, lei ha fatto anche un confronto con gli altri partiti nel momento in cui ha detto, insomma, i tempi di risposta sono stati piuttosto veloci da parte di tutti. Allora, due domande, però. Allora, oggi attendiamo il presidente Tridico e, diciamo, sarà l'occasione per ascoltare tutti i nomi di quegli esponenti politici, non solo parlamentari, deduciamo, che hanno fatto richiesta o hanno ottenuto quel bonus. Lei sa dirci come mai, diciamo, alla vigilia di questa audizione, in che modo è uscito fuori il nome? C'è stata un'autodenuncia da parte dello stesso Rizzone, questo ovviamente se lo sa. E poi, la vostra reazione, lei, insomma, ha parlato di espulsione, ma, insomma, rispetto agli altri partiti è una reazione molto più dura, anche perché abbiamo visto che la Lega, che al suo interno conta il maggior numero di politici coinvolti, in realtà, fino adesso ha parlato di sospensione e così è stato fatto per i suoi parlamentari coinvolti in questo scandalo. Allora, io mi auguro che la sospensione sia il primo provvedimento che si applica immediatamente, prima o poi, di prendere la decisione dell'espulsione, perché comunque, al di là del fatto che, come dicevo, è abbastanza scontata, secondo me, diciamo, la decisione finale, però quantomeno queste persone vanno ascoltate. Quindi io mi auguro che, parlo per gli altri partiti anche, che ci sia la sospensione per poi una successiva espulsione, perché se poi gli altri partiti copriranno i colleghi parlamentari, allora significa che qualcosa ancora non funziona e che di strada gli altri partiti ne devono fare ancora tanta prima di iniziare a conquistare la fiducia degli italiani. Però, detto questo, per me, parlo per il Movimento 5 Stelle, io sono convinto che ci siamo mossi abbastanza velocemente e che dopo la sospensione, perché in questo caso anche il Correga Rizzone, su lui è stata richiesta la sospensione, dopodiché, diciamo che se ci deve essere una Sena abbastanza severa, una pena, anzi, severa, la pena severa non può essere altro che una escursione. E senta, sa dirci se c'è stata questa autodenuncia? Cioè, a un certo punto, prima dell'audizione, Rizzone si è autodichiarato? Non lo sa dire questo? Guardi, io non glielo so dire. Mi fa una domanda a cui io non so dare risposta. Immagino che oggi il presidente dell'Inps sarà lì in commissione dai colleghi della Commissione Lavoro a dare delle risposte, farà i nomi sia di chi l'ha chiesto e chi ha preso il bonus, sia di chi non l'ha poi preso come accredito sul conto corrente. Quindi credo che man mano che si avvicinava questa data i nomi sono venuti fuori quasi in maniera spontanea. Però non le so dire perché questa è una dinamica che non è stato mio compito seguire e quindi non le so dare questa risposta. Fatto sta che il nome è uscito fuori, ne abbiamo preso atto, ci siamo mossi velocemente e quindi io ritengo che adesso diciamo la questione è quasi chiusa. Certo, comunque insomma bene che sia uscito prima sarebbe stato decisamente peggio anche per una questione di immagine se quel nome fosse uscito fuori oggi durante l'audizione. Questo è chiaro. Senta, onorevole Gubitosa, come risponde alle critiche o ai sospetti che vengono avanzati da parte di coloro che di fronte a questo caso hanno parlato di una notizia montata ad hoc in vista del prossimo referendum di settembre? Io capisco che lei mi debba fare questa domanda ma penso che non ci sia una questione assurda. Nel senso non capisco in che modo si possa montare una questione ad hoc su questo. Io penso che questa cosa sia semplicemente ridicola. quindi non so come commentarla. Ripeto, c'è anche un nostro collega del Movimento 5 Stelle quindi montare ad arte un qualcosa che poi ovviamente ha toccato anche il nostro movimento ma è ridicolo proprio pensare che sia stata creata una cosa del genere ad arte. I cittadini ci hanno mandato in Parlamento per fare dei provvedimenti seri che impattano direttamente sulla loro vita quindi non siamo qui a perdere tempo a creare questi teatrini ad hoc. Ecco, a proposito di provvedimenti seri così ci arriviamo pure noi tanto insomma abbiamo detto, ridetto dobbiamo aspettare alle 12 arriveranno delle risposte arriveranno delle risposte anche onorevole Gubitosa come bene sa dalla piattaforma Rousseau perché alle 12 si chiude la consultazione aperta ai militanti che da ieri e fino a oggi si esprimono sulla questione del vincolo del mandato che di fatto va a sdoganare la ricandidatura di Virginia Raggi l'anno prossimo a Roma lei che risponso si aspetta dalla base e se visto che si parla comunque di mal di pancia o comunque di divisioni non tutti si è d'accordo con il dare il sostegno alla Raggi l'anno prossimo qual è il suo punto di vista la sua posizione di fronte a questa scelta che per molti è scontata e per molti altri no Allora io vorrei fare una piccola premessa prima ascoltavo la sua collega che diceva che questo mandato che non si va a contare questo mandato zero vale sia per i consiglieri regionali che per i consiglieri comunali per le amministrative no, in effetti vale solo per i consiglieri comunali non vale anche per i consiglieri regionali quindi chiariamo che questa vale per i consiglieri comunali dopodiché io quando sento parlare di queste dinamiche io vorrei ricordare a tutti che quando si esprime e si interroga Rousseau che cos'è Rousseau? Cioè Rousseau non è un oracolo che dice le cose così cioè Rousseau non è altro che uno strumento un'invenzione fatta dai fondatori del Movimento 5 Stelle che va a fare cosa? va a portare decisioni importanti che prima venivano fatte nei partiti da 4, 5, 6, 7 persone da questo strumento, questa invenzione consente a tutti i cittadini di esprimere una linea su un determinato argomento quindi quando lei dice mal di pancia, questioni, decisioni cioè qui non è che stiamo parlando di una corrente che c'è la corrente di Di Maio la corrente di crime e poi c'è la corrente di Rousseau però ci sta che in un gruppo anche molto ampio di persone non tutti hanno lo stesso punto di vista quindi diciamo questa è una cosa abbastanza naturale se vogliamo ma il mio punto di vista si ferma però guardi se mi fa completare il mio punto di vista, la mia linea si ferma laddove ci sono i cittadini che danno una linea cioè Rousseau non è altro che una piattaforma che fa esprimere i cittadini e fa prendere ai cittadini delle decisioni che poi impattano nelle scelte politiche quindi alle 12 noi avremo un risultato di quello che vogliono gli iscritti di Rousseau i cittadini italiani vogliono non considerare il mandato da consigliere comunale vogliono fare delle alleanze sui territori ecco quello che diranno i cittadini a me deve stare per forza bene ma deve stare bene a me e a tutti gli altri colleghi quindi non ci possono essere mal di pancia dopo che una decisione è stata presa dai nostri cittadini quindi Rousseau a volte io vedo che soprattutto la stampa però onorevole Gubitosa il nome e il quesito lo sottoponete voi quindi in primis c'è una scelta che fa il Movimento 5 Stelle che poi sottopone alla base quindi comunque a monte la prima scelta è la vostra noi man mano che le cose vanno avanti noi siamo arrivati, ripeto in dieci anni siamo arrivati al governo di questo paese è chiaro che le cose le esigenze le esigenze cambiano ma cambiano addirittura anche le esigenze del paese Italia quindi è normale che quando ci troviamo davanti a un bivio a dei dubbi ad una scelta interroghiamo i cittadini e vediamo cosa ne pensano cioè io non ci vedo un'undola di male anzi io voglio ricordare a tutti che negli altri partiti queste decisioni importanti vengono prese in una stanza di 20 metri quadri da 7, 8, 10 persone noi condividiamo le nostre scelte importanti per la vita e il futuro del Movimento 5 Stelle con i nostri iscritti che sono quasi 200.000 quindi cioè è una scelta che va ai cittadini e quando i cittadini si esprimono noi diciamo va bene siamo qui perché ci avete mandato voi e noi facciamo quello che ci state chiedendo mi sembra molto sì 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 l'hai esposta anche in una maniera molto semplice onorevole Gubito se le faccio anche un'ultima domanda prima di salutarla e che guarda un po' la situazione generale nel paese dal punto di vista dei contagi stiamo raccontando tutti i giorni e sempre di più purtroppo di un aumento dei casi stiamo anche raccontando di un'attenzione particolare a questo punto delle regioni e non non di un piano nazionale però che riguarda tutti nel senso c'è ancora un modo di procedere in ordine sparso da parte di chi chiude le spiagge chi no le discoteche insomma le regole continuano ad essere ad essere diverse siamo ormai già alla metà di agosto le chiedo se teme ancora che ci sia il rischio di nuovi lockdown visto che insomma la situazione non sta andando a migliorare insomma un suo punto di vista su questo più che altro sui timori che lei è come esponente politico e come cittadino ha di fronte a una situazione insomma che al momento non appare rassicurante guardi su questa situazione il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che dobbiamo essere prudenti ma per un motivo molto semplice perché non ne siamo ancora fuori ed è per questo che ogni volta che gli altri partiti la Lega Salvini dicono apriamo tutto chiudiamo tutto e cambiano idee ogni giorno noi siamo sempre lì a mantenere la barra dritta su questa situazione perché non ne siamo ancora fuori abbiamo un vantaggio però rispetto all'altra volta rispetto alla prima volta che questo virus ci ha colpito che questa volta lo conosciamo quindi sappiamo come affrontarlo conosciamo le regole quindi io non le so dire se i numeri saliranno ancora oppure se da oggi inizieranno di nuovo a scendere l'unica cosa che le so dire è che dobbiamo rispettare quello che ci viene dato dal comitato tecnico scientifico dal governo dalle regioni è vero che magari chi la pensa in un modo chi la pensa in un altro ma in maniera coordinata conoscendo questa volta come si muove questo nemico invisibile io sono certo che non saremo più costretti a chiudere il paese perché abbiamo comunque una linea una guida su cui fare dei ragionamenti per evitare quello che è successo un'altra volta quando questo virus ci ha preso tutti alla sprovvista però è chiaro che l'approccio deve essere serio corretto e con la barra dritta senza utilizzare questo virus sempre per andare contro il governo contro che prende delle scelte importanti solo per uno scopo è quello di far aumentare magari il consenso quindi su questa cosa non consenso lo dico agli altri partiti uniamoci cerchiamo di capire come affrontare da domani in poi queste nuove esigenze che si stanno creando tenendo sempre la barra dritta non sottovalutando il pericolo perché ripeto non ne siamo ancora fuori va bene grazie grazie onorevole Gubitosa per essere stato con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti